Amici di YouTube, ben trovati! Marco Liguori è appena morto in un tremendo incidente d'auto. In questo video parliamo di un dramma avvenuto a Cadelbosco Sopra, in provincia di Reggio Emilia, laddove un uomo di 56 anni ha perso la vita a seguito di un sinistro in auto. L'uomo, alla guida di una Peugeot, ha sbandato, sfiorato un palo, lasciato i segni sull'asfalto e poi ha finito la corsa contro un albero. Tutto ciò è avvenuto a Cadelbosco Sopra, in provincia di Reggio Emilia. Perde la vita il 56enne, residente a Gualtieri. L'incidente è avvenuto intorno alle 8.45 del mattino, nonostante l'intervento dei sanitari del 118, per l'uomo non c'è stato nulla da fare, il suo cuore si è fermato per sempre e facciamo le più sentite condoglianze alla famiglia della vittima. Che possa riposare in pace, amici di YouTube, io vi ringrazio per l'attenzione. Lasciate il vostro commento e iscrivetevi al canale. Condividete questo video, ciao a tutti. Grazie a tutti.